Incredibile, tienili, 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 incredibile, incredibile, incredibile amici del commento, ce l'abbiamo noi, il commissario Bello Sguardo Ciao, ciao Come ti chiami? Marco Eh, hai dieci decimi? Più o meno Marco Mento un po' meno Marco dieci decimi Attenzione, ecco, abbiamo da dietro un estimatore Sì, è vero, tranquillo, amico Sai che godi di stima particolare? Sì, sì, sì Sei stimato in questo momento? Con lui dietro no Dicono che hai l'occhio lungo, quindi hai già capito? Occhio lungo io no Ah, solo l'occhio, dico Ah, non solo, attenzione, un palo, un po' prezzatore tuo Un ammiratore, un ammiratore No, no, no Non sei un ammiratore Fammi Attenzione, non è un ammiratore, ma tu sei Alberto C'è la trance stasera perché Dopo quello che hai appena detto, cazzo, dire che c'è la trance è grave Ti sei presentato nel migliore dei modi Ma, dulcis in fondo Attenzione, ce l'abbiamo veramente Eccolo qua Guardate, guardate Che bello Il ragazzo che non deve chiedere mai Il ragazzo che va dal parrucchiere dove? Etiopia Trova sempre un posto vicino per andare Sono sempre dei bei cazzoni neri enormi Ecco, questo potevamo spiegarlo in maniera diversa Dei grossi peni neri Ecco, sei più... Sei più corretto Mi piace la Bernarda, sto scherzando Ok, attenzione, abbiamo una guida alpina, incredibile Ecco, abbiamo il ragazzo da dietro Da dove venite ragazzi? Carvedo E cosa festeggiate? Il compleanno del nostro amico Che si chiama? Davide Fagli auguri, fagli auguri Auguri Davide Anzi, auguri Pupo Perché è il suo soprannome Perché è alto? No, è... Ha neanche amato così Da giovane è rimasto Li piace il gelato al cioccolato a lui? No, spero di no Ok, va bene, va bene Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao